Ragazzi buongiorno, parlo da volo piano perchè sono le 6 di mattina, oggi si parte per andare a fare il torneo, non so se si sente qualcosa, ma se sarà sicuramente schifoso Purtroppo questo fine settimana non vedrete un video, questo video sarà creato dopo e sarà tornato ovviamente, poi questo fine settimana non avrete visto un video perchè non potrebbe avere problemi e non sono riuscito a registrarlo appunto Niente, adesso vi faccio vedere un po' come vi ho preparato, come porto dietro, poi ci vediamo un po' durante il viaggio e poi arrivo in ebbere a Cesena Ragazzi qua abbiamo il giacchetto, il borsone della scuola, tutta la roba dentro, qua qua indietro abbiamo il piccolo bordo di oggetti e l'altro ultimo video, qua dentro la borsa più buona Raga dopo 3 ore e passa di viaggio siamo finalmente arrivati in camera, adesso vi faccio vedere un po' tutta la camera Adesso non devo ancora arrivare quindi aspettiamo, se non è va molto presto, in realtà ma il giorno mangiamo quindi dopo vi faccio vedere anche la sala pranzo, la sala colazione, non cazzo ci siamo Poi faccio vedere la camera Allora anche se siamo, anche qui abbiamo la porta di otterrata, qua un letto di non so che cazzo di dorme, qua un letto matrimoniale mi sono preso posta là Abbiamo il telefono, qua dentro si sono tutta la mia roba, non faccio vedere che cazzo di dorme, niente Poi qua ci sono io, qua abbiamo il bacco di dorme, non bagno, la doccia, io ci batto la testa E' il cesso di questi gran cazzi, una bella luce, una bella tv, tutta la mia roba, faccio vedere il terrazzo adesso Il terrazzo non è, adesso c'è, il terrazzo non è, adesso c'è, il terrazzo non è, adesso c'è un cazzo in terrazzo Entra, adesso aspettiamo Aspettiamo gli altri Che arrivino E poi Maggiore lo mangiamo, ah, ne tre, andiamo a giocare E stasera le 9, non so se lo registro, avremo la sfilata In un tanto se è ripetendo la camera, se è caso avremo una sfilata In campo A Cisena Sai che siamo in spiaggia, in tutta la scuola Non spiaggia Eh, ci deve essere un maggiore Ah, hai frescolino, le micchie bordelle stanno per andare Qua Abbiamo un po' d'aria, che tra un po' giochiamo, smaltire, cibo Raga, abbiamo pareggiato una partita assurda Intanto, se riesco e... Ah, ciao Ciao, raga Ci vedrete il campo che avete visto prima, anche Avete visto prima nelle immagini, sempre si riesco a mettere E niente, adesso siamo all'albergo E ci rilassiamo un po' E stessa sera si va alla manifestazione Inaugurazione... Cazzo si chiama lì E niente, ma stasera Ragazzi siamo all'albergo Adesso andremo al campo sportivo di Cesena Allo Stadion Prattina di Cesena Per l'inaugurazione del torneo fuori artificio E tante altre cose, non so cosa ci sarà Ci mostriamo a Toscana In provincia di Firenze Chi abbiamo? Abbiamo il club polisportivo Santa Maria Ben arrivati ragazzi E pilota Tagli club e da tè no c'era Ora abbiamo in volgendnaire Il club polisportivo Guard 1 Tagli club e da tè no c'era Provcendo un fondement Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.